La serie Ultra Light di chitarre acustiche di Traveler Guitars porta a nuovi limiti il concetto della casa, quello di creare uno strumento portatile e utilizzabile in veste elettroacustica in qualsiasi condizioni. Uno strumento che può essere davvero caricato in qualsiasi valigia o in ogni cappelliera di aereo. La serie si compone di tre modelli, due con corde in acciaio e uno con corde in nylon. La Ultra Light Mahogany Acoustic che imbraccio in questo momento ha costruzione set-in con manico e corpo in mogano. La caratteristica paletta assente, quindi costruzione headless della casa, regolazione e ancoraggio delle meccaniche all'interno del corpo dello strumento. Elettrificazione affidata a un pick-up under seddle piezoelettrico senza regolazione e ovviamente essendo passivo senza bisogno di alimentazione. Geek bag in dotazione. L'altra steel string della casa è la Ultra Light Antique Brown che oltre alla sua finitura si differenzia dalla Mahogany per il suo corpo in acero. La nylon string della casa ha anch'essa manico e corpo in mogano e ha in comune con le sue cugine steel string l'elettrificazione passiva per mezzo di pick-up under seddle piezoelettrico. Il radius della tastiera è per le steel string da 15 pollici e 70 quindi piuttosto piatto ed è invece del tutto piatto, quindi privo di radius, nel caso della nylon string Ultra Light. Venite a provare le Traveler Guitar Ultra Light Series e fate davvero l'esperienza con lo strumento che verosimilmente vi accompagnerà in ogni viaggio della vostra vita senza lasciarvi mai a piedi presso tutti i Traveler Guitar Point sul territorio nazionale. Ciao!